brava di risposta allora Ignacio qua dobbiamo fare un video messaggio perché da presidente del senato bisogna condannare i fatti avvenuti a Firenze certo mi guardi, leggi i cartelli, poi io taglio, ci metto un intro e ce lo portiamo a casa con 5 minuti sto video va bene? ok e azione questa è una cosa inedita io condivido questa valutazione stop ma se non dice cosa la gente che ne sa che cosa condivide lo riesce a leggere questo? no, anzi sicuramente no va bene, va bene cambiamo cartello, non c'è problema mi raccomando pronto carico e azione io sono anti-antifascista stop stop un altro Ignacio ho finito i cartelli torna domani ma no, leggi questo cartello torni domani altrimenti non se ne fa nulla io ci ho provato